Ancora una volta le educatrici dell'asilo nido comunale di Sant'Arsenio hanno in modo originale reso magico il Natale dei loro piccoli alunni. Quest'anno poi, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare nemmeno lo spettacolo natalizio, al termine del quale le educatrici consegnavano ai bambini e alle loro famiglie i lavoretti realizzati. E così le educatrici Anna, Rossella e Michela hanno pensato di vestire nuovamente i panni di postine speciali e consegnare personalmente a tutti i loro bambini i lavoretti di Natale. Un modo anche per rivederli tutti, anche quelli che nell'ultimo mese non hanno frequentato il nido, che è rimasto però aperto con le educatrici sempre pronte, con il sorriso, con affetto e professionalità, ad accogliere i loro piccoli alunni. Il 2020 è stato un anno che non dimenticheremo facilmente, ha detto Anna D'Alto, coordinatrice del nido, un anno in cui abbiamo imparato a vedere le cose da una prospettiva diversa. Un messaggio e un gesto di speranza, quello delle educatrici del nido di Sant'Arsenio, con l'augurio che i bimbi presto tornino a scuola, luogo di socialità, condivisione e di crescita, e si ritrovi la serenità un po' persa dello stare insieme, piccoli e grandi.